La profezia dell'obbedienza, la prossimità, la vicinanza al prossimo, partendo dal fratello e dalla sorella di comunità, e la speranza che il Signore faccia nascere nuove vocazioni alla vita consacrata. Sono i tre pilastri della vita consacrata che Papa Francesco ha ricordato ai partecipanti al Giubileo dei Consacrati, incontrati in Aula Paolo VI. Lasciando il discorso scritto, il Pontefice ha parlato della profezia dell'obbedienza come forza contro l'anarchia che semina il diavolo, e dire alla gente che c'è una strada che ti riempie di gioia, ed è quella di Gesù. La prossimità poi è avvicinarsi alla vita della gente, alle loro sofferenze e divenire prossimo. E il primo prossimo è in comunità. Papa Francesco ha criticato ancora il terrorismo delle chiacchiere, chi butta la bomba della chiacchiera nella comunità e si allontana, provoca distanze, augurandosi che nell'anno della misericordia tutti i consacrati riescano a non fare i terroristi chiacchieroni. E infine la speranza, il Pontefice ha chiesto di pregare il Signore perché faccia nascere figli e figlie nelle congregazioni religiose, sul modello di chi ha dato la sua vita per gli ultimi. Quando tu vai a un cimitero e vedi che ci sono tanti missionari morti religiosi e tante suore morte a 40 anni perché hanno preso le malattie, queste febbre di quei paesi hanno bruciato la vita. E tu dici questi sono santi, questi sono semi. Ma dobbiamo dire al Signore che scenda un po' su questi cimiteri e veda cosa hanno fatto i nostri antenati e ci dia più vocazioni perché ne abbiamo bisogno.